Ecco qui gli Spurs che non smettono mai di vincere, siete sempre più in alto Ne manca una sola, ne manca una sola alla Salvese Ma voi che pensate alla Salvese? Dico c'è la Serie A Perché queste facce non la posso vincere Tu sogni una sfida a Bayern e Spurs Io è stifo per Roma Quindi sogni questa sfida Ma io non hanno già vinto Sono il partito in Italia Beh in attesa della partita tra Bayern e Spurs Parliamo della partita di oggi Serie C non si può fare Serie C non è per voi Noi possiamo scendere Addirittura Però non è bello dai È bello questa sfida in Serie A magari Vediamo Com'è nata questa vittoria oggi? Sempre che soffrite Il portiere era un portiere Il portiere ha fatto Che poi non era un portiere Non era un portiere Ah no no, quella è un'altra partita Niente, niente, scherzato Stavo pensando alla Galactico Si capito? Vostri Poi poi la inquadramo Dicevamo? Voleva dire la Ficchiera di scambi Voleva dire la Ficchiera di scambi Volevo dire la Ficchiera di scambi Voleva dire la Ficchiera di scambi Quello era noi no Quindi Volevano andare a partire i campi Volevano altri ricambi Ed erano dono sul fiato Volevano più fiato Perchéさ Ok, se ho rispetto alla scorsa partita L'amore di scambi Certo, ovviamente si migliora sempre di più, no? Non penso che fate passi indietro. Voi siete in alto in classifica, però date sempre uno sguardo dietro, c'è qualche avversario che te mette in particolar modo. No, per divertirci. Giochiamo per i fatti nostri. Giochiamo per divertirci. Non diamo sguardi. Arriva la penultima partita, posso iniziare a pensare a... Penultima! Sì, sì. Chi è che incontriamo i play-out, mi sa... Play-out, vabbè, vabbè. Vedete quanto manca la salvezza su me, diceva, c'è una fissia per favore. Vabbè, guardate così in basso. E vede per sparare cazzate, per favore. Prossimo turno, all-in. Ora dico io, scontro salvezza. No, è uno scontro salvezza a questo punto. Perché gli all-in sono, diciamo, giù, voi siete sopra. È strano dire. Ma sarà importante. L'ottimo per la salvezza di all-in. È importante inizialmente. A che raggio chiamo? Alle quattro. Oh. È un orario comodo per voi? Sì, sì, sì. Così ci siamo più. Va bene, ragazzi. Allora... Miglior in campo me lo volete dire? Sì, un fortiere nord. No, di voi. Io ho fatto un memoria prezzo. Tre. Ha fatto tre gol. Va bene, va bene. È stato importante. Volete dire qualcosa sui Galacticos? Sì, sì. No, vabbè, di gol. Cioè, ora li riconosciamo, visto che Riccardo è stato scusato. Bene, va bene. Dopo queste cattiverie vi saluto, va bene. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Dozzer, un KO, diciamo, aspettato, visto che era la capolista. No, aspettato. Vieni, 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 sto tirando. Vieni, Otto. Tanto, scusate, mi lanciano... Non sarei di qua, c'è il buco. Eh, niente, abbiamo preso il vostro pari. Vieni, abbiamo preso il vostro pari, poi abbiamo preso il vostro pari, però alla fine abbiamo preso il vostro pari. A meno quattro. Ve la siete giocata, diciamo, contro la capolista, ma oggi cosa è che è mancato? Eh, siamo stati con più di 70 dietro. Non eravamo chiusi come l'altro, e questo ci ha creato molte difficoltà. E poi manca uno che appena tira su la capolista. Oggi tu hai tirato in questo atto pali. Ma di solito sei tu quello che magari ti dico, prende la palla, tira e stenga. Non ci sono i pali, no. Eh, la porta è piccola, no? Eh, lo so. Eh, vabbè, questi spursi sono davvero imbattibili. No, imbattibili, però sono molto bello. Sono una bella squadra. Perché comunque sono triboli tutti, però sono tutti veloci, però... Note positive almeno in queste sconfitte ce ne sono? Eh, Alberto ha giocato a Trapani, ha giocato molto bene. Eh, Marco Pileccio a culo. Lui, la propria, sono stati quelli del sosponato. Se intendeva qualche tiro e abbiamo preso i pali, magari era a fine di questo. Da cambiare la passione. Prossimo turno a Spirina, sono gli ultimi in classifica, forse quando bisogna affrontare questa squadra non bisogna guardare la classifica, sono sempre una versione insidiosa. No, meglio mai guardare la classifica. Voi la guardate la classifica, la vostra classifica. No, abbiamo pensato a fare la nostra partita. Come hai detto, noi vogliamo arrivare a penulti. A penulti. Poco, se così sei contento. Non sono più in Aposus. Tanto poi passo nei paura. Fammi salutare e poi passo, ok? Vabbè, dozer, ci vediamo alla prossima. Ok, ciao, ciao, ciao.